Musica Liberi.tv, Riccardo Cristiano, siamo a Cleto per l'inaugurazione del castello in compagnia del direttore dei lavori che ha supervisionato appunto il restauro del castello di Savuto, l'ingegnere Franco Fata. Come è andata? È stata difficile la dinamica dei lavori di direzione, dei lavori di un bene culturalmente importante per il territorio? Visto la tipologia di opera e il contesto in cui si opera, le problematiche ci sono state grazie alla sinergia dei colleghi che mi hanno affiancato e dell'impresa e anche la volontà e la determinazione dell'amministrazione comunale sono state superate perché poi intervenire in contesti architettonici così complessi che negli anni sono stati trascurati, abbandonati al degrado non è facile, non è come intervenire su una struttura ex novo dove magari già sai come intervenire. Abbiamo avuto, ripeto, questi inconvenienti, delle problematiche che abbiamo cercato di risolvere sempre adottando...